finalmente è giunto natale il periodo più bello dell'anno che in molti di noi specialmente chi è più romantico piace piace sedersi sul divano accoccolato con una bella cioccolata calda guardare un film di natale con il sottofondo della musica natalizia ricoperto da un caldo played e magari vicino l'amore della sua vita non è detto che l'amore della tua vita possa essere un uomo una donna ma anche il nostro amico a quattro zampe e allora oggi sto qui per mostrarti come passare le vacanze natalizie con le idee che abbiamo a monte di proce di mia roma 25 per i nostri amici a quattro zampe immagina che stai iniziando a dare alla stanza questo trionfio di luci e colori quindi stai iniziando ad adobare l'albero anche se qualcuno l'ha fatto prima ma non c'è tempo di un tempo definito per adobare l'albero lo si fa quando si ha voglia e quando ne siamo convinte allora che succede magari in presenza del nostro amico a quattro zampe se abbiamo un gatto iniziamo a vedere che il nostro gatto tra i rami dell'abete tende a nascondersi oppure inizia a ciuffare le palline con le sue zampette oppure il nostro cane inizia a seguirci dietro dietro e ci sta e col muso ci guarda questo perché perché i nostri amici a quattro zampe anche loro amano il natale quindi non è perché vi vuole fare un dispetto il cane o il gatto che si va a nascondere sotto all'albero oppure tra i rami ma è semplicemente per consentire a voi padroni di dire sì è fatto bene il natale si deve festeggiare perché il natale è magia ma immagina che è una giornata fredda piovigginosa che ti stanchi e che puoi fare un servizio fotografico in che senso il servizio fotografico lo sappiamo che le foto di famiglia quelle natalizie sono quei ricordi indelebili per tutti quanti quando si hanno i bambini quando si hanno i nonni quando semplicemente si sta a casa con la mamma e il papà ma perché non far partecipare anche al nostro amico a quattro zampe allora per i cagnolini di taglia piccola abbiamo diversi cappottini proprio natalizi con la scritta merry christmas quindi la magia dell'elfo arriva anche per i nostri amici a quattro zampe di diversi formati quindi diverse misure e per i cagnolini un po più grandi magari un simpatico cerchietto con le corne dell'arena giusto per fare quella foto natalizia quel ricordo indelebile che ci resta nel cuore oppure se vuoi essere semplice e non dare questo vestiario al tuo amico a quattro zampe possiamo optare per un maglioncino in lana caldo di totalità rosso il colore rosso che più è portato durante le festività natalizia oppure qualcosa a fantasia e quindi questo lo puoi trovare qui da noi a monte di crocida ma invece del servizio fotografico voglio rilassarmi sul divano immerso nel plate con la mia cioccolata calda è il mio amico a quattro zampe cosa posso dare posso dare sia un gatto una bella cesta natalizia con le stelline proprio che richiama il natale le stelle il simbolo del natale oppure una semplice copertina in palli per il mio gattino o ancora per il mio cagnolino tante fantasie di diverso genere e abbiamo sempre per ospitare i nostri amici a quattro zampe anche diversi tunnel di diverse dimensioni quindi abbiamo il divano e le coccole ma se il mio amico a quattro zampe è molto esuberante cosa posso fare libera cosa mi proponi ti posso proporre una vasta gamma di giochi abbiamo anche giochi natalizi sono arrivati delle palle per cani in tpr cioè che significa tpr è una termoplastica resistente fatta con della gomma all'interno c'è lo squicchio e è tutta ricoperta da peluche quindi proprio la palla di babbo natale e poi più la ti mostro altri giochi ma se il mio cane è molto interattivo libera qualcosa che posso farlo giocare all'esterno non c'è problema abbiamo la vasta varietà della conghi i vasti giochi della con questa è una semplice palla lancia lanciapalla oppure palla sonora e squittio oppure i cani chiamano i peluche i peluche belli resistenti con la corda all'interno ma parli dei cani ma io c'ho i gatti non c'è problema ci sono i topini da ciuffare gli unicorni che iniziano a vibrare le palline che iniziano a rotolare poi c'è la codina di paglia del catnip diverse bacchette la bacchetta che possiamo attaccare anche al vetro con una semplice ventosa insomma tante 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 idee altri giochini per i cagnolini più piccoli per i cucciolotti ho un cucciolo è arrivato a casa di mia zia un cucciolo gli voglio fare un regalo di benvenuto non c'è problema abbiamo il fruscio abbiamo le copertine dudu come quelle per i neonati abbiamo i giochini dentali proprio per i denti come i bimbi quando iniziano a mettere i primi dentini quindi li prudono i denti e le mamme e i papà comprano quei giocattoli che si vanno a fare freschi in frigo per il nostro amico a quattro zampe abbiamo i giocattoli per alleviare il prurito dentale ma a me un golosone libera cosa mi proponi allora abbiamo delle calze natalizie per i gatti da poterle riempire con la vasta gamma di snack di tutti i gusti è molto assortito quindi abbiamo i snack morbidi oppure semplici bastoncini i fagottini tutto quello che appetibile per il gatto una vasta gamma di snack umidi umidi morbidi oppure quelli la duratori nel tempo inoltre abbiamo la nuova linea di snack americani che non sono fatti di pelle bovina ma semplicemente di carne grigliata e abbiamo diversi gusti c'è al manzo al maiale al pollo poi abbiamo una vasta gamma di altri snack come ossicine ancora biscottini secchi snack liofilizzati snack essiccati quindi chi ne ha più ne metta e ancora i corni di cervo quelli la che vanno per la maggiore questi qua ve li consiglio soprattutto durante il cenone a breve farò un video che vi parlerò come comportarvi in presenza di un amico a quattro zampe durante il cenone natalizio e tutte le insidie che il periodo natalizio può nascondere dietro l'angolo e ma se vuoi poi se vuoi soprattutto un semplice regalino già pronto puoi trovare diverse idee e confezioni altri giochini sempre per i cani e per gatti con il cappello con il fruscio oppure una semplice pallina sotto in peluche frozen un altro cappellino diverse idee tutto questo lo puoi trovare qui a monte di procida per dare al nostro amico a quattro zampe veramente una coccola in più e se non seguirai più i miei video o li avresti per caso ti auguro un felice natale